Biper Banca. Da più di 150 anni parliamo la lingua dei nostri clienti. Buongiorno, Ada. Come andiamo? Eh, tiriamo avanti. Dai, dai, ti imbotta, va là. Biper Banane e Lamponi. L'ortofrutta che Bianca ha rinnovato con il nostro aiuto. E consegno anche a domicilio. Biper Butter D'Occhio. Il tempo che Bruno ci mette a inviare denaro da quando usa l'app. Quel baciamè lì, le mingafonze. Biper Bel Paese. Da Torino a Brescia. Da Arezzo a Cosenza. Per che paese che vai, Biper Banca che trovi.